Puntuali oggi alle 8.40, rientriamo in onda, è un'altra di quelle puntate in cui la musica trova poco spazio, la sfumiamo un po' bruscamente perché ci sono tante cose di cui parlare quest'oggi, chiaramente nel corso della puntata tornerò sul tema del primo maggio, le questioni lavorative che ho accennato nella prima parte della puntata leggendo qualche prima pagina ma vi ho già detto che voglio anche occuparmi di altri elementi, purtroppo sarà anche un'altra puntata in cui vi parlo moltissimo di guerra, lo faremo senza altro nella seconda ora di trasmissione e voglio cominciare in realtà a prendere alla larga questo argomento non parlandovi di un conflitto specifico, di una guerra specifica ma un po' di quello che ci porta verso le guerre che è chiaramente la spesa per gli armamenti. Qualche giorno fa è uscito un nuovo rapporto del SIPRI che è un po' l'istituzione a livello globale riguardo al monitoraggio, cioè è diventata l'istituzione globale in termini di monitoraggio delle spese militari e purtroppo per l'ennesima volta ci racconta di spese ulteriori, spese maggiore rispetto agli anni precedenti in quanto ad armamenti. Vogliamo un po' rifletterne e lo facciamo con Francesco Vignarca, direte pace e disarmo e dell'osservatorio Milex che intanto salutiamo. Ciao Francesco e benvenuto, anzi bentornato qui su RBA. Buongiorno a voi e grazie ancora per l'invito. Figurati grazie a te, insomma ho l'impressione che di rapporto in rapporto cambia un po' il senso di queste interviste, non si parla più di qualcosa che ci pone un pericolo verso un futuro un po' indefinito ma purtroppo l'impressione è sempre più che questa nuova postura prebellica come leggevo in Uniteriale sul magazine Noema di qualche giorno fa sia sempre più concreta purtroppo. Cioè ci sembra proprio che l'impressione è che siamo in un preguerra, non sappiamo esattamente quale, dove, quanto ampia, se sia un ampliamento delle guerre attuali o se sia un nuovo scontro che ancora non vediamo all'orizzonte ma sembra che tutti i governi siano lì proprio in bilico rispetto a questo scenario. Non so se è quello che intravedete anche voi. Sì, diciamo che la cosa preoccupante in questa situazione attuale, i dati del SIPRI la confermano perché ormai chiaramente abbiamo raddoppiato le spese militari in questo secolo, dall'inizio del secolo stesso, è proprio l'allineamento tra la spesa che appunto comunque è cresciuta perché il raddoppio non lo fa in un anno anche se c'è ovviamente stata un'accelerazione dopo il 2022, appunto tra i dati concreti delle spese e la retorica e l'approccio politico. Questo è davvero allarmante. Mentre prima si agitavano per giustificare spese militari ragioni industriali, ragioni di sicurezza, ragioni di stabilità, oggi si agitano proprio ragioni di guerra. Sono tantissime le voci che hanno detto entro 5-10 anni dovremmo fare una guerra per forza con la Russia perché ci invaderà, non si capisce da che cosa si tragga questa sicurezza e se c'è una certezza in questo senso perché non cercare di evitarla? Si dice che appunto ci sarà il problema della Cina, ci dice che bisogna vincere in Ucraina. Ogni volta c'è una giustificazione diversa. Io ho paura davvero che stia scappando di mano agli stessi che sostengono il percorso che fa piacere al comparto militare, industriale e finanziario. Cioè il rischio è che poi questa cosa che magari nasce come una motivazione per avere più introiti anche dal punto di vista proprio del business diventi poi uno scenario concreto e il problema è che di fronte a uno scenario concreto di guerra tutti hanno da perdere, in particolare le popolazioni. Non c'è nessuno che ce la fa. Mi ricordo, mi viene in mente, ed è un paragone secondo me che è allineato perché l'altra cosa su cui si stanno facendo queste scelte sbagliate è il cambiamento climatico. Una vignetta che ogni tanto gira sui social di queste tre persone con i vestiti strappati, accese un fuoco, chiaramente in una situazione di post-conflitto o di post-catastrofe in cui si raccontano che sì, il mondo è andato a rotoli, però per un breve periodo abbiamo portato a casa un sacco di fatturato per i nostri azionisti. Ecco, il rischio davvero è che per un fatturato di qualche azionista noi stiamo mandando il mondo alla catastrofe. Sì, esatto, è proprio quella stessa vignetta che mi viene in mente ogni volta che leggo di questi argomenti e purtroppo, pur essendo appunto una vignetta ironica, si fa sempre più concreta e più reale. Che cosa ci raccontano allora, insomma senza poter andare chiaramente nel dettaglio, ma insomma le ultime analisi dello Stockholm International Peace Research Institute, appunto il SIPRI, che cosa ci dicono rispetto alla spesa militare globale recente? Ma confermano fondamentalmente i trend sia di crescita sia del rafforzamento dei blocchi. La Nato ancora ha il 55% di tutta la spesa militare globale, ha 1.341 miliardi di dollari sui 2.440 che ci sono. La Cina per il 29esimo anno consecutivo ha fatto crescere la propria spesa militare che ormai sfiora i 300 miliardi di dollari. E ovviamente la Russia che negli ultimi anni invece, prima del 2022, aveva fatto scendere il proprio livello di spesa militare l'ha reso enorme, collocandosi al terzo posto col 4% complessivo, perché sta impiegando veramente tantissima parte del proprio bilancio. In un anno l'aumento è stato del 24%. Ovviamente l'altro aumento similare è stato quello dell'Ucraina, che per difendersi è balzata del 51%, a quasi 65 miliardi di dollari, che è tantissimo, soprattutto perché ovviamente l'economia e il budget ucraino sono minori. Però paradossalmente le cose che a me preoccupano di più sono altre questioni. Il balzo del Giappone, che è un paese storicamente pacifista e con una Costituzione molto particolare, perché è una delle potenze che ha perso la Seconda Guerra Mondiale. L'aumento del 75% è registrato dalla Polonia. Cioè il rischio non è solo che i grandi paesi, i grandi blocchi si muovano, ma che anche quelli di contorno, fatemi usare questo termine ovviamente, è tanto per capirci, crescano e questo aumenta l'escalation, aumenta le percezioni, aumenta le difficoltà, diciamo chiude anche le alleanze in una maniera in cui non si può vedere un percorso alternativo, ma si vede solo la possibilità di andare verso un conflitto. Ed è per questo che noi, ancora però indefessamente, come Rete Pace di Sarmo, all'interno della campagna globale sulle spese militari, comunque continuiamo a dire che ci dovrebbe essere un'altra strada. Chiediamo ai governi di ridurre le spese militari, degli sforzi per il disarmo globale, peraltro chiediamo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di fare una nuova sessione speciale sul disarmo, ormai sono 36 anni che non se ne fa più una, e di dare ovviamente da parte dei governi priorità a scelte di giustizia e non ai profitti derivanti dal commercio di armi. Cioè ci vuole un cessante fuoco globale e queste richieste che possono sembrare, va bene, delle liturgie, perché noi continuiamo a ripeterle, in realtà sono cruciali. Da un lato perché comunque tengono aperta una possibilità diversa e se tanti governi possono dire che ormai siamo in una situazione di guerra, dobbiamo difenderci, nessuno può dire che non c'è alternativa o che non esistono delle forze sociali che propongono un'alternativa. E questo è già fondamentale, tenere una possibilità di porta aperta. L'altro è perché se noi guardiamo la storia proprio dell'altro periodo in cui la spesa militare è cresciuta molto, cioè la guerra fredda, soprattutto la seconda parte della guerra fredda, è proprio grazie a questo tipo di richieste, a questo tipo di mobilitazioni, a questi incontri, sia le sessioni sul disarmo, che pensiamo invece alla conferenza di Helsinki per cercare di riorganizzare una pace globale, che hanno scalfito quel periodo che ancora più di oggi sembrava di crescita di spesa militare intoccabile. Eppure siamo riusciti a evitare di arrivare all'escalation, quindi noi dobbiamo avere fede, avere comunque speranza che ci sia quella possibilità. Lo ridiremo non solo in ambito di questa campagna globale, ma a metà maggio ci sarà a Roma, il 14 e il 15 maggio, e sarà in giornate conclusive di questa campagna globale, un evento, il Civil 7, perché sapete che il G7 sarà in Italia, in Italia ci sono dei gruppi di ingaggio o di confronto ufficiali, uno di questi è della società civile, che ha prodotto e produrrà un documento di richieste, una sezione dedicata proprio alla pace, alla sicurezza globale e al disarmo nucleare. E il 14 e il 15 di maggio a Roma, alla FAO, daremo in mano ai leader che si incontreranno un mese dopo queste nostre richieste, proprio perché nessuno possa dire non lo sapevamo, non c'erano alternative, è capitato quasi per inerzia, no? Se le spese militari crescono e soprattutto le spese per gli armamenti crescono e quindi di conseguenza si preparano le guerre, è perché qualcuno ha scelto di farlo e bisogna iniziare a chiedere che invece si scelga una strada di pace. Sì, un discorso che sento molto, ma ancora più spesso del solito di recente, è quello di gli esseri umani hanno sempre fatto le guerre e quindi per forza ci dobbiamo trovare qualche guerra a livello globale, cosa che magari non è neanche così vera se andiamo a guardare la storia lunga dell'umanità, ma anche se fosse vera appunto perché allora dobbiamo per forza accontentarci di questa nostra tendenza e non invece andare contro e provare appunto a risolvere le cose, cambiare strada. Mi fa molta impressione in questi giorni sapere che probabilmente questi dati del Sipri sono già invecchiati e tra l'altro farli invecchiare potrebbe essere proprio la Svezia che è qualcosa di piuttosto ironico, nel senso che qualche giorno fa il governo svedese ha annunciato che aumenterà il budget che dedicherà allo sforzo bellico, Svezia, paese storicamente neutrale, da poco è entrato nella Nato, sforerà addirittura quella percentuale di budget militare che è stato indicato dalla Nato come pressione a tutti i vari paesi membri dell'alleanza, insomma è qualcosa di un po' inquietante che soltanto il 22 aprile il Sipri ha pubblicato questo rapporto, ma probabilmente già sono numeri leggermente più bassi di quelli che già stiamo vedendo in questi giorni. Sì, sicuramente il 2024 avrà un balzo ancora maggiore, peraltro nei dati Sipri registrano una diminuzione dell'Italia, che non è vero, l'Italia ha aumentato già nel 2023 un po' il suo budget, però per ragioni di cambio e di inflazione e di conteggi loro registrano una leggera flessione, ma perché i dati del Sipri vanno presi tendenzialmente, ovviamente non riescono per ogni paese ad avere esattamente precisamente i dati come magari noi invece nelle campagne dei singoli paesi riescono ad avere. Però serve il trend, serve il quadro e purtroppo, come giustamente hai detto tu, i dati del 2024 saranno ancora peggio, lo vediamo sull'Italia che ha un budget ormai di oltre 28 miliardi di euro, ma soprattutto l'elemento centrale e cruciale è quello che ad aumentare sono le parti dedicate all'acquisto di sistemi d'arma. Nel 2019 l'Italia aveva un budget per i sistemi d'arma minore di 5 miliardi di euro, nel 2024 ce l'ha di oltre 10 miliardi di euro, cioè in 5 bilanci abbiamo raddoppiato i soldi che mettiamo per comprare nuove armi ed è questo il punto cruciale. Queste armi non ci difendono, non cambiano le politiche, non risolvono nemmeno i conflitti. L'idea che il nuovo sistema d'arma potesse risolvere il conflitto in Ucraina ce lo propinano da due anni e non è mai successo, anzi ha peggiorato le cose. E questa cosa è cruciale, perché tra l'altro mette il dito nella piaga di un'altra retorica falsa, quella del va bene, è un problema, però noi dobbiamo da un lato difenderci, da un lato portiamo a casa dei risultati positivi. No, ci sono un sacco di studi, a fine di novembre dell'anno scorso Greenpeace ha pubblicato un documento a cui abbiamo collaborato che dimostra come l'investimento in armi sia meno remunerativo dal punto di vista economico, oltre che problematico da quello politico e di alimentare le guerre. Proprio oggi esce un altro ebook a cui abbiamo contribuito, promosso da Sbilanciamoci, sempre da Greenpeace, sulla spesa militare europea, quanto sia già cresciuta e quanto sia inefficace. Il problema è che ormai la politica è così debole che non riesce a opporsi a questa grande pressione che c'è da parte dei potentati, da parte dei media legati a questi potentati. Se voi aprite i primi due o tre giornali italiani, quotidiani, ogni giorno c'è ormai da tempo un articolo sulle armi, su quanto è importante, sull'industria, sulle cose e non sottolineando che sono tutte questioni già dette e già smentite, ma facendo finta di niente. Quindi questa grossa pressione sulla politica che è fragile arriva. Pensate a uno come Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, che continua a dire ci vuole la difesa europea, ci vuole la difesa europea, va bene, ma in che termini? Come? Perché? Con chi? E soprattutto la si agita come un santino che risolve? O si vuole fare un percorso di ragionamento? No, è tutto propedeutico a questo. Peraltro, sottolineo infine, perché c'è qualcuno che comunque dalle crisi sempre ne guadagna, che anche da questo punto di vista chi sta guadagnando molto dalle destabilizzazioni dell'Europa, dal fatto che ci sono spostamenti rispetto ai fondi che non vanno più all'industria, non vanno più alla trasformazione verde che anche remunerative, sono gli Stati Uniti. Indirettamente, ma anche direttamente. Circa il 60% delle armi comprate dai paesi europei sono prodotte da aziende statunitensi. Ci sarà anche lì un motivo. Esatto, sì, e questo discorso sulla sovranità europea rispetto alle armi è visto in maniera, appunto, come dici tu, un po' discutibile, se lo si vede su tutte le prime pagine. Molto spesso questa spinta, l'Europa si deve difendere da sola, non deve dipendere dagli Stati Uniti, però appunto poi se la risposta a tutto questo è produciamo ancora più armi, compriamone di più, facciamone ancora di più, credo che la risposta vada nella direzione opposta a quella che ci servirebbe. Insomma, come dicevo, sono tanti gli argomenti di cui potremmo parlare, potremmo stare qui davvero a lungo. Il documento del Sipri lo si può leggere tranquillamente sul loro sito sipri.org Si può seguire Rete Pace di Seramo e Osservatorio Milex anche per questi appuntamenti di cui abbiamo accennato adesso, poi magari ci torneremo anche qui su Play, ma intanto ve li segnalo 14 e 15 maggio, giusto? Se ho colto bene le date. Esattamente alla sede FAO di Roma. Perfetto, perfetto. Allora queste sono le date da segnarci. Grazie mille, come sempre, Francesco Vignarca, spero che un giorno ci troveremo per parlare di temi un po' più rassicuranti, ma intanto grazie per ragionare con me anche di questi temi un po' pesanti. Grazie mille, alla prossima. Alla prossima, grazie a voi per lo spazio. Ci prendiamo adesso un brevissimo momento di pausa e ritorniamo con le altre notizie del giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.